Il cristiano sa vivere nel suo tempo, lo ha detto il Papa stamattina. E per conoscere i veri segni, per conoscere la strada che devo prendere in questo momento, è necessario il dono del discernimento e la preghiera per farlo bene. Invece, per guardare il tempo, del quale soltanto è Signore e Patrone Gesù Cristo, noi non possiamo avere nessuna virtù umana. La virtù per guardare il tempo deve essere data, regalata dal Signore. E la speranza, preghiera e discernimento per il momento, speranza per il tempo. E così il cristiano si muove in questa strada, momento tra momento, con la preghiera e il discernimento. Ma lascia il tempo alla speranza. Il cristiano sa aspettare il Signore in ogni momento. Ma spera il Signore alla fine dei tempi. Uomo e donna e donna di momento e di tempo, di preghiera e discernimento e di speranza. Ci dia al Signore la grazia di camminare con la saggessa. Che anche è un dono di Lui. La saggessa che nel momento ci porta a pregare e discernere. E nel tempo che il Messaggero di Dio ci fa vivere con speranza.